E dalla Giunta ci spostiamo al Consiglio perché martedì scorso l'Aula ha approvato il provvedimento che proroga i termini per l'approvazione e l'adozione del Piano del Governo dei Territori. Riguarda oltre 500 comuni lombardi che ancora non hanno adottato questo strumento urbanistico. Ne abbiamo parlato con Alessandro Sala, Presidente della Commissione Territorio. Alessandro Sala che è il Presidente della Commissione Territorio del Consiglio della Regione Lombardia oggi al centro della seduta, proprio il PGT, la proroga per 500 comuni lombardi. Saranno esaminati due testi, uno proposto dalla Giunta e uno già passato in Commissione. Ci riassume quali sono i caratteri essenziali di questo test? A questo punto in Consiglio oggi vanno le due proposte di legge, i due PDL abbinati sulle quali in Commissione abbiamo trovato congiunzione e fra l'altro votati in Commissione con 58 voti favorevoli e 9 voti contrari da parte del Movimento 5 Stelle. È un provvedimento straordinariamente importante, innanzitutto perché è il primo provvedimento che verrà licenziato oggi nella decima legislatura. Ed è un provvedimento che secondo noi sta dalla parte dei cittadini. I cittadini non possono soffrire queste lungaggini, nonostante fosse già stato prorogato per ben tre volte la questione del piano di governo del territorio, ma non ne hanno colpa i cittadini se poi le amministrazioni sono state inadempienti. Alcune, devo dire, forse anche con qualche giusta causa, quelle dei piccoli comuni, i piccoli comuni di montagna. Altre non hanno giustificazioni. Quindi per stare dalla parte dei cittadini, per iniziare questo percorso anche che oggi ci vede con una crisi pazzesca, in particolare per quanto riguarda l'edilizia, devo dire che il provvedimento va in questa direzione. Quindi entro il 31 dicembre, per coloro che non l'hanno adottato, dovranno essere adottati, adottato il PRG e per coloro che invece devono...